ecco qua e poi ho messo anche l'indicazione del livello minimo che può essere utile allora qua siamo al 18% quindi è troppo quindi proviamo con 16.000 ecco con 16.000 siamo a 8% con 17.000 siamo a 11% con 16.500 siamo a ecco più o meno diciamo che 16.600 16.600 dovrebbe venire come portata massima del prolievo ecco vedete che vi faccio notare un aspetto con un foglio except di questo tipo diventa veramente difficile lavorare perché se anche voi scrivete in una cella 2 più 2 e poi date invio prima che vi dia il risultato guardate quanti secondi passano ne sono passati 4 o 5 però immaginatevi forse meno 3 però immaginatevi come si fa a lavorare con un foglio così dove ogni volta che fate una piccola variazione dovete aspettare 3 secondi che rincalcoli tutto allora vi orientate avete capito più o meno come grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti allora se avete capito più o meno come muovervi io vi proporrei questo adesso io mi metto avanti con R e voi se avete delle domande mettermi avanti con R significa che mi devo togliere questo cioè io lavoro su R intanto e a schermo chiaramente voi non vedete più il foglio excel e se voi avete domande sull'elaborazione in excel io sono qui d'accordo? avete dei chiarimenti da chiedermi prima che andiamo avanti? bene tenete presente quindi che dovrebbe venire circa 16.600 la portata massima quindi 16.000 quindi se la vuole è una forma del bilancio del bilancio certo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti un buon Grazie. 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 Tutti? Vi stupite? Qualcuno deve ancora finire? Vi torna il risultato a tutti? Molto bene. Allora, se siete tutti in pari, vi spiego il programma in ore che sto facendo. c'è qualcuno che però non ha bisogno ancora di chiaramente sul file Excel verso questo attorno a lui ok, allora proviamo ad andare avanti con il file DR e vediamo come possiamo fare allora adesso lo sto ancora testando allora c'è ancora qualche errore qui che non capisco bene dov'è ma adesso lo troverò direi che un attimo solo vedere se me lo prende adesso grazie a tutti Grazie. Ok, allora, la prima cosa da fare è caricare il file di portata e quindi vedete qui ho messo uno scan di questo file che si chiama portate2.dxt che voi potete ottenere semplicemente facendo come vi ho detto prima il copy e colla dal mio website sul blocco note. Stando attenti ma non dovreste, in questo caso non avrete bisogno di cambiare il punto dalla virgola perchè R dovrebbe prendere automaticamente il punto, perlomeno in Linux fa così, spero che lo faccia anche in Windows. E confermate che Windows prende automaticamente il punto. Ecco, dopo di che ho pensato di scrivermi una funzione che calcola il numero di fallanze in funzione della portata Q in ingresso. E allora questa funzione praticamente mi dovrebbe consentire di fare ciò che fa il file d'excel, cioè di procedere per tentativi e quindi variando la portata in ingresso calcolare appunto il numero di fallanze. In realtà se volessimo utilizzare una funzione di ottimizzazione successivamente per trovare automaticamente senza andare per tentativi la portata Q dovremmo fare qualcosa di diverso, cioè dovremmo in sostanza... Comunque questo lo vediamo, intanto cerchiamo di fare questo che è una ripetizione di ciò che fa il file d'excel. Allora, io preferisco fare una funzione perchè questo mi permette di fare i tentativi più facilmente, le funzioni voi le abbiamo già viste quindi riuscire a sapere di cosa si tratta. Ecco, l'avrei scritto in questo modo, innanzitutto bisogna definire le variabili, quindi il numero di fallanze uguale a 0, il numero di massimi inteso come numero di ore in cui il serbatoio raggiunge il livello massimo uguale a 0, poi c'è il livello minimo e il livello massimo, la superficie dell'ago e il DMV. E poi c'è il livello iniziale 266 e poi mi servono anche due variabili che sono il livello precedente del tempo di livello che metto uguale a 0. E mentre presenti queste variabili a rigore avrei anche potuto definirle. R, come sapete, richiede la definizione in anticipo dei vettori, ma sulle variabili si potrebbe anche soprassedere. Io l'ho fatto più che altro per chiarezza. Dopodichè attraverso un ciclo da 1 a 17.520 che sono le ore comprese, il numero di ore comprese nel nostro file, attraverso questo ciclo mi vado a calcolare ad ogni passo temporale come ho fatto in Excel la portata netta in ingresso, il delta di livello e il numero di fallanze. Allora, innanzitutto ho messo una condizione appena iniziato il ciclo for, vedete quel if i uguale a 1, significa che è una condizione che al primo passo mi mette il livello precedente uguale al livello iniziale. E questo praticamente succede una volta sola, al primo passo. Poi dopo la seconda condizione, analogamente a quanto abbiamo fatto nel file di Excel, mi dice che se il livello precedente è maggiore del livello minimo, cioè questo livello precedente che per me è solo il primo passo uguale al livello iniziale, quindi questo livello precedente è sostanzialmente il livello corrente. Se è maggiore del livello minimo, allora io mi calcolo la portata netta facendo, sottraendo alla portata in ingresso al passo I, questo PR1, il DMV e la portata prelevata Q, altrimenti se non è soddisfatta questa condizione sottrago solo il DMV. Occhio a come l'ho scritto, sulla stessa riga, if, condizione, istruzione da eseguire se la condizione è soddisfatta, else, istruzione da eseguire se la condizione non è soddisfatta. Attenzione che questo forse è qualcosa che non abbiamo mai visto. Tenete presente che ho potuto scrivere in questo modo perché le istruzioni da eseguire, se la condizione è soddisfatta o meno, consistevano di una sola istruzione. Altrimenti avrei dovuto fare qualcosa di diverso, che adesso vi faccio vedere. Quindi, fermiamoci, anzi non fermiamoci, ve lo riscrivo. Attenzione, quindi quello che sto facendo adesso è una correzione che poi rimuoverò, che mi serve solo per farvi vedere come si dovrebbe scrivere in R questo if, else, se anziché avere una sola istruzione da eseguire ne avessi più di una. Vi è chiaro cosa sto facendo? Cioè, in questo caso, vedete che c'è una condizione if in questa riga, c'è una condizione if, aspettate che vi isolo la riga, Allora, in questa riga c'è una condizione if, else, cioè un if, condizione, istruzione da eseguire se la condizione è soddisfatta, else, istruzione da eseguire se la condizione non è soddisfatta. Si può scrivere così solo perché l'istruzione è composta da una singola ordine, da un singolo ordine. Allora, adesso vi faccio vedere come dovreste scrivere se l'istruzione fosse composta da diverse righe. Allora, if, condizione, qui dovrei mettere una graffa, come sapete, poi qui, la prima istruzione, vado a capo, metto l'altra graffa, di seguito, else, graffa, istruzione, graffa, ecco qua. Cioè, il trucco è che io non me lo ricordo mai che l'else va messo sulla stessa riga di chiusura della graffa, della prima graffa, della prima graffa. Ecco, questo segnatevelo perché questo vi è molto utile, cioè saper scrivere l'if else in R. Grazie. Grazie Grazie quando siete pronti ritorno al file di prima allora vedete che questa condizione altro non fa che dire se il livello è maggiore al minimo io tolgo la portata prelevata, se non è maggiore al minimo tolgo solo il DMV posso tornare dietro? eccomi qua allora adesso andiamo avanti a partire da questa riga bianca allora a questo punto posso calcolarmi il delta di livello che è pari al Q net per 3600 diviso la superficie poi posso calcolarmi il numero di fallanze, aggiornarlo quindi dico se il livello è migliore del minimo allora il numero di fallanze lo incremento di 1 se il livello è uguale al massimo il numero di fallanze, il numero scusate di massimi lo aumento di 1 e adesso devo aggiornare il livello prima di passare al passo successivo l'ultima istruzione che faccio è aggiornare il livello e quindi dico se il livello attuale che ho chiamato l'ifprec più delta l'if è maggiore di 275 allora lo aggiorno e il liveprec è uguale a 275 oppure se no aggiungo il delta di livello è molto semplice e a questo punto mi ripresento al prossimo ciclo if con l'ifprec aggiornato e quindi sono a posto questo l'ho già caricato in R non so se funziona, adesso andiamo a vedere ah, direi che anziché fare retorno non fail io farei retorno non fail diviso 17520 così per cento così ce l'abbiamo già in percentuale adesso questa me la vado a copiare e a incollare in R allora vediamo un po' se facciamo non fail di 16600 vediamo se mi viene il 10% dunque, qua ho fatto qualche errore PR1, sì, ho fatto PR1 con la tonda e non con la quadra adesso lo trovo sicuramente così eccolo qua sì, sì, giusto sì, direi che ci siamo forse non è esattamente uguale non è esattamente uguale ma